ma come si fa? è tutto scritto e il Napoli nel gruppo C con ovviamente era scontatissimo era o Real Madrid ma tanto io non avevo dubbi su Real Madrid, non avevo dubbi poi la seconda squadra portoghese il Braga, Real Madrid, Braga e la nuova squadra di Borucchi e Rubberlino siamo stati proprio sfortunati ma che cavolo è di Dijonè ma che cavolo e ora voglio lanciare una sfida, un messaggio ai Real Madrid Real Madrid vi aspettiamo a passavette per fare un mazzutante ovviamente il ritorno di Carlo Ancelotti Anotti e come sarà bello quando noi andremo a Benabeu questo è il nostro girone penso che la qualificazione sera giochino fra Napoli e il Real Madrid e poi ne ho... e poi ne ho... grazie grazie